La vocazione e determinazione della conferenza territoriale socio-sanitaria. A questa interpellanza risponderà l'assessore Benedetti. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Intanto ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in questi momenti che sono stati per me abbastanza difficili. Mi metto in piedi, cosa che non faccio di solito perché ci sto meglio. La nostra interpellanza era determinata da un interessante intervento che ha fatto l'assessore Benedetti in quarta commissione perché magari i non addetti ai lavori o quelli che si interessano di meno di aspetti tecnici non sanno o non hanno ben compreso qual è il ruolo della conferenza territoriale socio-sanitaria rispetto ai compiti dell'USL. Mentre l'assessore ha spiegato bene, io non ero presente ma ovviamente ho avuto il verbale, quali sono i compiti della conferenza territoriale che secondo noi per gli enti locali è un organo importante in quanto cinghia di trasmissione rispetto a quelle che sono le decisioni della dirigenza ASL. È per questo che nell'interpellanza è stato riportato due dei punti più salienti dell'intervento dell'assessore e che parla anche dell'ufficio di presidenza che è l'organo esecutivo della conferenza territoriale che ricordo è formata adesso da 74 sindaci perché è un organo unico su tutto il territorio romagnolo e quindi questo ha fatto scaturire per noi delle domande in positivo diciamo così perché ci interesserebbe sapere ed essere aggiornati su quello che la conferenza sociosanitaria propone e quindi che venisse riportato questo suo agire in commissione in modo che si possa avere una notizia, essere informati direttamente per quello che riguarda le funzioni della conferenza che sono appunto quelle di programmazione e di controllo ed eventualmente potere dire la nostra come enti locali che è il ruolo che ci compete per queste cose. Per cui io non sto a rileggere le domande e ringrazio l'assessore per la risposta. Grazie. Grazie a lei consigliere Capponcini mi consenta di dire bentornato.